buongiorno ragazzi questo video parliamo di due espressioni italiane molto importanti c'è ci sono questo è il mio ufficio c'è un casco c'è una chitarra nel mio ufficio ci sono molti libri tanti libri ci sono quattro libri nel mio ufficio ci sono uno due cappelli ci sono due cappelli quindi c'è uno ci sono tanti molti c'è un telefono telefono pronto c'è un telefono ci sono molti libri plurale quindi c'è ci sono grazie a tutti